Vediamo se parte Come parto il video? Ora è partito il video No, no! Appena accendi noi partiamo No, giusto! Vabbè, poi ti taglio Dai, forza, vai Tu non ci dai un via E attacchi 1, 2, 3, 1 Mamma no Non lo vediamo Non lo vediamo No, no! Non lo vediamo Non lo vediamo No, 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 no No, no, no No, no, no Che c'è? Che c'è? Lei adesso è incassato Aio Non lo vediamo Non lo vediamo Non lo vediamo Non lo vediamo Vado per me Vado per te Cosa ci sono? Vediamo cosa c'è per regalo Allora Vediamo cosa c'è per regalo Vado per regalo I mutande per l'Antonio No, per secondo me Ha giocato Ha giocato Che schifo No, 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 no Lei, Antoniuzzi, lei Non lo vediamo Non lo vediamo Non lo vediamo Che schifo